Ciao, vi saluto, io sono Marta. In questo video vi voglio presentare la possibilità di risparmiare utilizzando e ordinando i prodotti Oriflame. Nel catalogo Oriflame troviamo più di 1000 prodotti cosmetici, wellness, accessori, che li possiamo ordinare direttamente dall'azienda e arrivare a casa nostra. Questo è il catalogo con le varie categorie di prodotti, prodotti con ingredienti naturali, abbiamo anche la linea biodegradabile, i prodotti creati speciali per i bambini e testati sui volontari umani, non sui animali. Possiamo ordinare anche dal flyer che ci sono delle offerte per i consulenti, stessi prodotti selezionati, che ce l'hanno un prezzo molto molto basso e a questo prezzo verrà calcolata anche la percentuale di sconto. Ogni volta quando scelgo i miei prodotti che li compro normalmente dai negozi, io ho la possibilità di risparmiare. Vi faccio vedere perché io adesso scelgo dal catalogo i prodotti per me che per esempio una famiglia consuma. Qua io ho fatto a caso, ognuno guarda il catalogo e sceglie i prodotti che normalmente avete bisogno. Ripeto, ve li comprate un profumo, una crema mani, una saponetta, dentifriccio, un profumo buono, un profumo più freggiato, una crema a piedi e così via. Io ho messo tutto scritto sulla carta, ho fatto il conto e sono arrivata a 75 euro. Ho scelto 75 euro e vi faccio vedere che sul sito Oriflames dove io praticamente ordino i prodotti, se metto questi prodotti nel carello, arrivo a una percentuale di 30% di sconto. Facendo i conti 30% di sconto io risparmio 22,5 euro perché pago solo 50,5 euro. Solo perché sono consulente Oriflame ho la possibilità di comprarmi questi prodotti con 30%. Quindi così arrivo a risparmiare sui miei prodotti. I prodotti arrivano a casa senza fare nessuna fatica e senza andare in giro a cercarli. Si ordina sul sito con il codice cliente.